Delia, prego. Ciao Nicola. Sì. Allora, anzitutto, invece di dire piacere di conoscerti, ti dico non è un piacere conoscerti, per le brutte parole che hai utilizzato nel confronto di Lori del Santo, ho visto in questi giorni dei video dove hai parlato, hai sparlato malissimo di lei, e ti reputavo una persona intelligente, Nicola. Invece di avere un punto di incontro con Lori, no, hai dimostrato da una persona ottimista a una persona pessima, pessimista. Perciò, datti una regolata. Ok. Ecco. E in più, mi sono domandata, ok, ma non è che questo teatrino che stai facendo è perché hai paura di Lori del Santo, visto che comunque ha già vinto un'isola dei famosi? Eh? Risponda. Posso rispondere? Sì. Allora, innanzitutto, per me è un piacere, vabbè, non penso di averti fatto niente di personale, e se hai visto bene le puntate, hai visto bene quello che abbiamo fatto, io alla tua amica Lori sono venuto più che incontro, le ho offerto una prova ricompensa, le ho dato un ciambellone perché è stata onesta con me, ed era un passo verso un eventuale potenziale riavvicinamento con lei. Lei, per contraccambiare, dice che si è dimenticata che io le ho dato il ciambellone e ho condiviso la prova ricompensa, ieri mi ha escluso dal cibo. Grazie. 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 Grazie.